Il primo libro di Toccate ha avuto la sua prima edizione nel 1615. Nell'arco di 22 anni, cioè dal 615 al 637, questo primo libro fu pubblicato ben cinque volte, subendo rilevanti modificazioni. Il volume presenta oltre alle 12 toccate le 14 partite sopra l'aria di Romanesca, le 11 partite sopra l'aria di Monica, le 12 sopra l'aria di Ruggero, le 6 sopra l'aria di Follia e 4 correnti. Frescobaldi dona al lettore, come lo definisce, alcune indicazioni che ci illuminano su come si deve affrontare questa splendida letteratura. Vediamo alcuni di questi avvertimenti che fornisco in italiano moderno, affinché siano più comprensibili. Le toccate, all'inizio, si suonano con tempo lento, non veloce, come spesso si sente oggigiorno. Vi è poi l'abitudine di improvvisare una specie di cadenza proprio all'inizio del brano, senza nulla togliere le opinioni di ognuno, personalmente non la trovo una buona abitudine, in quanto distoglie l'attenzione dell'ascoltatore dalla presentazione degli elementi iniziali che staranno alla base dell'elaborazione del pezzo. Si arpeggiano le botte ferme, cioè gli accordi di conclusione delle varie sezioni. A dire il vero, questa indicazione bisognerebbe, anche se non sempre, praticarla più che altro alla tastiera degli strumenti da penna, cioè cembalo e affini. All'organo non avrebbe poi molto senso, essendo lo strumento un aerofono che tiene a piacere il suono, cosa che il cembalo non ci dona. Per questo motivo risulta ottimo l'espediente di arpeggiare spesso al cembalo per allungarne il suono, che altrimenti si estinguerebbe troppo velocemente. I vari passi che compongono queste opere possono essere eseguiti portandoli, cioè eseguendoli con una certa flessibilità nel tempo, a seconda dei loro effetti, o meglio affetti, che questi ci comunicano. Qui entriamo nella sfera del personale. Infatti, ognuno di noi potrebbe provare un sentimento leggermente diverso nel medesimo passo. Questo sta a indicare quanta libertà di azione l'autore ci concede, usufruibile o meno a seconda dell'indole del singolo esecutore. Sicuramente la musica dei nostri giorni ci impone più rigidità, anche se penso che questo termine non sia mai perfettamente appropriato ad una esecuzione musicale. Nei passaggi a valori rapidi, che di solito procedono omoritmicamente, l'autore consiglia di iniziare lentamente e poi stringere liberamente il tempo. Questo è un chiaro caldeggiare al rubato, anche se il termine viene più spesso usato nella prassi della musica romantica. Ovviamente ciò è suscettibile a tutte quelle sfumature di sensibilità e abilità di mano che contraddistinguono ogni esecutore. Ecco perché, comparando diverse esecuzioni dello stesso brano, notiamo delle variabili anche vistose, ma sono proprio queste variabili a farci amare o meno un'interpretazione dall'altra. Eseguendo un trillo si abbia l'avvertenza di fermarsi come in sospensione sull'ultima nota prima della risoluzione. La stessa cosa si intende anche ad altri passaggi scritti in valori stretti. Le cadenze rappresentano da sempre la punteggiatura di un brano, specialmente in questa letteratura, anche se si tratta di una cadenza intermedia, sostenerla, cioè trattenere il tempo, affinché sia chiaro all'ascoltatore il percorso armonico e strutturale dell'opera che ci vuole comunicare l'autore. Come esempio dell'arte musicale fescobaldiana concludo proponendo all'ascolto la prima toccata tratta dal primo libro. 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 He Economics andro Capricorn Salute A presto. 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 A presto.